Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'iniziativa che sarà messa in campo domani a Gela al fine di aiutare le popolazioni del centro Italia devastate dal violento terremoto del 24 agosto scorso l'evento si chiama Una Matriciana per Amatrice, coinvolti chef e associazioni di volontariato e gruppi emergency Anche Gela scende in campo per aiutare le popolazioni del centro Italia devastate dal violento terremoto del 24 agosto scorso domani in piazza Umberto I si darà l'iniziativa Una Matriciana per Amatrice l'evento è promosso dal comune in collaborazione con la Ristowall d'Italia e con le associazioni di volontariato e gruppi emergency Il contributo innanzitutto praticamente in piazza Umberto I lo ricordo domani sera dalle 19 in poi anche se dalle 17 inizieranno a preparare una mega torta ci dicono gli chef il contributo sarà devoluto attraverso un tagliando che è possibile acquistare nella giornata direttamente di domani e tutto quello che verrà raccolto verrà reso noto già nella serata di domani e rispetto a questo poi saranno questa volta le amministrazioni a sentirsi quindi non ci saranno situazioni indirette saranno direttamente l'amministrazione di Gela attraverso il sindaco con il sindaco di Amatrice che opereranno direttamente questo è importante esserci al di là del gusto e delle cose buone che assaggeremo e che mangeremo è importante esserci come città giusto perché il contributo sia ancora più sostanzioso e utile a chi lo riceve l'assessore comunale Francesco Salenitro sulla solidarietà la nostra città non deve dimostrare nulla perché già lo fa in tante direzioni e con tante associazioni sia di volontariato, club service e quant'altro, la stessa città da questo punto di vista quello che noi stiamo per fare e organizzare lo facciamo sull'onda di questo dato di fatto che la città già possiede al proprio interno quello che accadrà quindi domani sarà sì la ricerca di un contributo da mandare alle popolazioni colpite dal terremoto ma in realtà sappiamo anche che non è risolutivo ed è una piccola goccia nel mare della necessità di ricostruzione non soltanto fisica delle città che sono state distrutte dal terremoto però è importante per gli abitanti di quei territori per sentire la vicinanza della nazione e delle popolazioni accanto a loro questo forse vale ancora di più di quello che viene dato fisicamente e materialmente ai nostri microfoni lo chef Salvatore Pizzo inizieremo a preparare dalla mattina abbiamo invitato come associazione Risto World e tutta la Sicilia dove ci saranno tutti a partecipare ci saranno più di 10 chef che verranno a darci un contributo professionale e la loro presenza alle 17 inizieremo con una mega torta di 40 kg per la torta normale e di una torta di un 50 porzione quella senza glutine da prescindere che il pasto è dedicato anche alle persone di indolleranza alimentare pertanto ci sarà anche l'associazione di celiachia pertanto il pasto è per tutti vi prego di non mancare onestamente non capisco le polemiche scatenate negli ultimi giorni dal vice sindaco rispetto all'impegno annunciato da parte del Partito Democratico della città rispetto alle questioni che riguardano la cosiddetta avvertenza a Gela lo dice la segretaria locale del PD Peppe Di Cristina premesso che nessuno vuole scavalcare i ruoli delle istituzioni a nessun livello è evidente che il ruolo dei partiti in democrazia è un ruolo baricentrico e noi che siamo il primo partito della città vogliamo svolgere fino in fondo il nostro ruolo anche nel rispetto di una città che oggi ha bisogno di tutte le forze politiche e sociali in sinergia per superare uno dei momenti più complessi della storia recente quindi suggerisco al vice sindaco chiude di Cristina di stare sereno non siamo una forza populista e avremo sempre un approccio serio e responsabile ma non permetteremo a nessuno di avere sulle grandi questioni un atteggiamento solidarista cambiamo argomento e ora apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di arresti e denunce eseguiti nel fine settimana a Gela da polizia e carabinieri si erano già impossessati di vario materiale ferroso quando sono stati intercettati dalla polizia ed arrestati loro sono i gelesi Salvatore Gravagna 34 anni ed Alessandro Piscopo di 41 il raid furtivo era stato commesso all'interno dell'azienda agroalimentare Zappalà in Contra da Burgio nelle campagne di Butera i poliziotti sono intervenuti grazie ad una telefonata anonima giunta al 113 i due malviventi dopo essere stati scoperti hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti ed ammanettati Gravagna e Piscopo erano riusciti ad entrare nell'azienda dopo aver forzato una catena posta chiusura del cancello scorrevole la polizia al termine dell'operazione ha sequestrato il mezzo e gli arnesi utilizzati per lo scasso mentre la refurtiva per un valore di circa 5.000 euro è stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo le formalità di rito il pubblico ministero, la Rase Cacini per i due indagati ha disposto il trasferimento in carcere e sempre la polizia del locale commissariato ha deferito una gelese di 53 anni perché non ha ottemperato per circa due mesi alla comunicazione giornaliera dell'elenco degli alloggiati nell'albergo da lui gestito i poliziotti hanno accertato che l'albergatore giustificandosi per presunti motivi tecnici non aveva rispettato l'obbligo non consentendo in tal modo il monitoraggio degli alloggiati per fini di polizia come previsto dalla legge e i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela hanno arrestato Carmelo Meroni, 30 anni, pluripregiudicato gelese per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza durante un controllo i militari hanno fermato l'uomo alla guida di una lancia Ypsilon sprovvista di copertura assicurativa sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato colto alla guida in compagnia di un altro pregiudicato locale Meroni adesso si trova ai domiciliari Altra auto in fiamme a Gela la scorsa notte intorno alle 2 il fuoco ha interessato la mini cooper di una donna di 50 anni in sosta in via Talca nel quartiere Scavone la macchina era utilizzata dal figlio un 25enne del luogo gli incendi alle auto e i danneggiamenti alle attività commerciali hanno raggiunto oramai livelli drammatici e sono fuori controllo pertanto chiedo al Presidente del Consiglio di convocare immediatamente un vertice per discutere sulla sicurezza in città con la partecipazione al tavolo del prefetto di Calzonesetta dei dirigenti delle forze dell'ordine del comandante della Polizia Municipale di tutte le autorità e le figure professionali utili per sviscerare il problema in modo profondo e quanto sostiene il capogruppo consigliare del megafono Sara Bonura l'obiettivo è quello di valutare e stabilire la possibilità di poter potenziare il personale delle forze dell'ordine al fine di tutelare maggiormente la sicurezza in città di incrementare il personale della Polizia Municipale affinché possa svolgere il servizio di vigilanza e controllo del territorio anche la notte inoltre chiedo alla Giunta di provvedere urgentemente alla sistemazione delle telecamere di videosorveglianza considerato che attualmente non sono in uso perché necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria non possiamo continuare a vivere nel terrore chiude la nota di Sara Bonura Il Museo archeologico regionale di Gela questa mattina ha aperto le porte ad una delegazione italiana ed ungherese nell'ambito del progetto dell'Istituto Ettore Romagnoli From My Homeland to the End of Europe edizione 2016-2017 ad accogliere gli studenti e i professori italo-ungheresi sono stati il sindaco Domenico Messinese e il direttore del Museo Ennio Turco Oggi abbiamo la fortuna di ospitare dei ragazzi di Dunarasti una splendida città ungherese che sono venuti a trovarci a vedere la nostra città sia vivendola perché sono qua da diversi giorni e sia ammirando quelle che sono le nostre perle come il museo, l'acropoli e le varie bellezze che ha il territorio non saranno sicuramente in grado di vederle tutte ma potranno comunque portare questo messaggio nel loro territorio è chiaro che è un progetto di scambio infatti ci sono stati dei ragazzi italiani che sono andati a vedere le bellezze ungherese e così forse si comincerà a parlare di un'Unione Europea che va oltre quella economica ma un'unione di popoli stiamo portando avanti tanti progetti con le scuole per esempio alternanza scuola-lavoro abbiamo cinque istituti sia del territorio di Gela ma anche di fuori stiamo portando avanti questo discorso della conoscenza delle attività che si fanno all'interno del museo tra cui la promozione perché è fondamentale io ricordo prima a me stesso ma poi a tutti che il museo fa conservazione e poi promozione ma per fare conservazione e promozione tutto passa attraverso la conoscenza e quindi abbiamo oggi l'occasione di avere questi ragazzi che vengono da fuori per far conoscere quello che è il nostro territorio ma non solo dal punto di vista quantitativo ma di più dal punto di vista dell'essenza della nostra identità sotto la guida della coordinatrice del progetto Tiziana Finocchiaro e con la collaborazione di Rita Maniglia e Claudia Gennuso gli studenti italiani hanno guidato gli ospiti del partenariato permanente alla scoperta dei tesori del museo utilizzando la lingua inglese La giornata di oggi ha un aspetto molto scientifico scientifico e informativo se vogliamo dire così i nostri ragazzi sono stati preparati per l'aspetto informativo relativo al museo dalla professoressa Gennuso i bambini hanno preparato delle presentazioni delle varie vetrine che illustreranno in lingua inglese ai loro compagni coetanei la professoressa Maniglia ha curato l'aspetto scientifico della mattinata e lì condurrà attraverso la zona archeologica il parco archeologico alla ricerca di piante specifiche della macchia mediterranea che verranno poi raccolte e collezionate in un erbario che verrà sviluppato successivamente a maggio durante il secondo e il successivo incontro di progetto in Ungheria I componenti del comitato Gelensis Populus già da qualche giorno trasmettono sui social il ricorso countdown per ricordare i gelesi che sta per scadere il tempo utile alla presentazione del ricorso contro la regione che attraverso l'assemblea regionale siciliana ha bocciato i decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela Niscemi e Piazza Merina alla città metropolitana di Catania rimanere inermi rispetto a questa decisione significa non mantenere fede alla parola data e dimostra di non avere a cuore la volontà della comunità gelese che si espressa per abbandonare la vecchia provincia di Cantanissetta città che ha sempre gressato il naturale ruolo di Gela girando per le strade si legge nella nota ci accorgiamo che i cittadini chiedono che questo ricorso venga fatto perché hanno creduto al sindaco e avvertono come un sopruso contro la volontà popolare e contro le istituzioni democratiche questo verdetto del Parlamento siciliano molti cittadini si stupiscono quando apprendono della improvvisa e inspiegabile indifferenza del loro primo cittadino alla questione ci ricordano che lui stesso aveva dichiarato di volere ricorrere contro l'istituzione regionale sono altresì preoccupati che dietro possa esserci qualche manovra legata alla imminente campagna elettorale per le regionali noi, chiude la nota di Gerensis Populus fino all'ultimo giorno continueremo a parlare con la gente perché la città ha speso 200 mila euro per organizzare il referendum popolare del 2014 e non ammetteremo silenzi di complicità e o nuovi equilibrismi politici che vanificherebbero l'immane lavoro fatto negli anni per convincere le popolazioni delle tre comunità del territorio gerese appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21 sul nostro emittente il nostro ospite sarà l'assessore comunale al bilancio Fabrizio Morello le repliche, lo ricordiamo sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi lunedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente conferire piccoli oggetti di uso domestico nastro adesivo penne carta carbone oleata plastificata e da forno posate in plastica sottovasi bacinelli materiali in plastica non di imballaggio giocattoli elettrici e non cassetti audio e video floppy disk cd tvd spugne sintetiche stracci sporti cosmetici calze in nylon lumini votivi pannolini assorbenti igienici sacchetti aspirapolvi mozziconi di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ed eccoci seconda parte del telegiornale continuano a gera i festeggiamenti in onore di san francesco promossi dal parroco don giorgio cilindrello oggi alle 16.30 scampanio festoso esposizione delle preziose reliquie di san francesco e santa chiara alle 17.15 preghiera della rosario e coroncina a san francesco e alle 18 solenne celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo di piazza merina monsignor rosario gisana e conferimento del sacramento della confermazione ai ragazzi del catechismo domani alle 7.30 scampanio festoso e lodi mattutine alle 8 celebrazione eucaristica alle 17 sul segreto della chiesa benedizione degli animali alle 18 scampanio festoso e preghiera del rosario alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la presenza delle autorità civili e militari animata dal movimento giovanile san francesco il sindaco per l'occasione accenderà la lampada sull'altare di san francesco e alle 20 fiaccolata con la reliquia del santo in piazza san francesco e domani alle 9 nel presso palo emiliani giudici di Gela si terrà la festa di san francesco e dei nonni promossa dall'istituto comprensivo san francesco diretto da Giovanna Palazzolo parteciperanno gli alunni di entrambi i pressi dell'istituto infanzia primaria secondaria di primo grado nell'occasione don Giorgio Cilindrello benedirà gli animali domestici di piccola taglia degli alunni della scuola inoltre si svolgerà anche la sagra del dolce l'istituto Ettore Majorana di Gela palessofermi da oggi ha un campo di calcetto sorge incontrata Marchitello l'inaugurazione è venuta questa mattina per l'occasione si è svolto anche un triangolare di calcetto tra le squadre dello stesso istituto c'è stata anche un'esibizione delle alunne del liceo artistico e dei servizi sociali in genere quando si realizzano delle strutture sportive poi si ricedono alle società che se ne occupano in maniera autonoma noi invece abbiamo pensato di condividerla con tutte le altre scuole di Gela mediante dei tornei che indiremo a breve che coinvolgano tutti i ragazzi delle superiori anche perché vorremmo che venisse superata quella barriera che normalmente si crea fra una scuola e l'altra noi vogliamo superarla e creare l'amicizia fra i ragazzi di tutte le scuole qualunque attività motivante e gratificante allontana i ragazzi dalla strada insegna anche loro le regole del vivere civile come lo sport perché uno sport non si può praticare se non si conoscono le regole e insegna anche a rispettare l'altro è stata realizzata con dei fondi europei che quando io sono arrivata temevamo fossero andati persi pensavamo che ormai nonostante la gara fosse stata espletata e tutto quanto che ormai i tempi fossero scaduti invece siamo riusciti a riacciuffarli nel vero senso della parola questi fondi europei che erano tra l'altro di entità notevole e non solo abbiamo creato questo campo di calcetto che è veramente bello ma abbiamo realizzato un grandissimo impianto fotovoltaico che si trova sul tetto della struttura principale abbiamo realizzato la climatizzazione delle aule e messo a norma tutto l'impianto elettrico ciò è stato possibile grazie alla sinergia con i tecnici della ex provincia l'attuale libero consorzio che ci hanno supportati dal primo momento e li ringrazio veramente insieme al commissario straordinario perché senza il loro supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile alla cerimonia di oggi era presente anche il vice sindaco Simone Siciliano una nuova struttura sportiva all'interno di un di un blesso scolastico diciamo tutte queste strutture servono ad avvicinare i giovani allo sport allontanandoli da devianze di un paese molto molto vasto che deve recuperare sicuramente quel vuoto infrastrutturale diciamo di strutture sportive che possono fare Gela diciamo un riferimento sicuramente per il comprensor e adesso occupiamoci del campionato di Serie D ed in particolar modo del Gela i biancazzurri pareggiano in estremis a Gragnano e portano a casa un punto importantissimo e domenica Alpresti sfida alla capolista Igea Virtus un gol dell'attaccante Maurizio Nassi in estremis permette al Gela di pareggiare una partita che stava per premiare il Gragnano finisce 2 a 2 ed è un punto che robustisce la classifica dei biancazzurri ancora imbattuti in campionato la cronaca della gara parte forte l'undici del tecnico Pietro Infantino un tiro da fuori aria di Schisciano chiama all'intervento il portiere campano Ferrara al dodicesimo arriva il gol gelese è un capolavoro firmato dall'Ucraino Kosovan direttamente su calcio di punizione il Gragnano però non ci sta e macina a gioco è bravo in più di un'occasione l'estremo difensore biancazzurro Saitta a dire di no agli attacchi dei padroni di casa tre palle gol in pochi minuti sventate con bravura dal numero uno del Gela si vanno gli spogliatoi con i gelesi in vantaggio per 1 a 0 nella ripresa al sedicesimo Montalbano potrebbe portare i suoi sul doppio vantaggio ma la sua conclusione viene salvata sulla linea di porta dal difensore Martone gol sbagliato gol subito è la legge del calcio cinque minuti dopo infatti arriva il pareggio campano a realizzarlo è Santaniello 1 a 1 il Gragnano resta in dieci per l'espulsione rimediata dalla Monica potrebbe essere l'occasione giusta per il Gela di andare alla ricerca del nuovo vantaggio ma invece la formazione di casa che ribalta tutto al trentunesimo su calcio di punizione Franco fa 2 a 1 una doccia gelata per il team tanto caro al presidente Francesco Tuccio ma è scritto da qualche parte che questa partita non bisogna perderla e così proprio all'ultimo assalto è il bomber Maurizio Nassi a mettere le cose a posto 2 a 2 e tutti contenti il Gela è lì nella zona alta della creditoria con i suoi 9 punti e domenica prossima al Vincenzo Presti c'è il big match con la capolista Igea Virtus per l'occasione la dirigenza biancazzurra metterà a disposizione 200 biglietti settore curva a soli 2 euro i biglietti possono essere acquistati fino a giovedì per informazioni contattare il 348 69 34 843 ripetiamo 348 69 34 843 due squadre che volevano vincere due squadre che hanno lottato con grande dignità con grande corsa con grande voglia di fare risultato io mi preme di dire che vorrei ringraziare la società del Gragnano per l'ospitalità e per la signorilità che hanno avuto ai nostri confronti li ringraziamo così smentiamo le tante chiacchiere che si dicono in giro che in Campania c'è scorrettezza e poca ospitalità e io per questo la voglio sottolineare ringrazio di nuovo la società del Gragnano la partita è stata bella la gente che è venuta a vedersi la partita si è divertita perché due squadre che correvano lottavano volevano vincere noi siamo dal 2-0 siamo passati al 2-1 perché credo che il loro capitano ha fatto la differenza in quell'episodio perché si sa le partite si decidono in episodi noi abbiamo preso il 2-1 con un uomo in terra che è a terra che abbiamo continuato l'azione e abbiamo preso il 2-1 anche se devo dire che il Gragnano non ha demeritato anzi hanno lottato hanno corso volevano vincere non hanno dimostrato la classifica che hanno io l'avevo detto in settimana l'avevo visto con la Leonzio tutte le partite sono difficili gli avversari hanno tutti qualità il livello si è alzato per questo mi preme di alloggiare i miei ragazzi perché oggi hanno fatto un grande risultato siamo passati dal 2-0 al 2-1 abbiamo fatto il 2-2 dimostrando che la mia squadra non molla mai questi ragazzi hanno cuore ci tengono a questa maglia siamo partiti in un certo modo oggi siamo soddisfatti perché abbiamo un cammino un cammino importante affrontando squadre importanti perché io dico che Gragnano si recupera tutti i giocatori che ha è una signora squadra io credo che alla lunga dirà la sua in questo campionato ed è andata malissimo al terra nuova Gela la squadra Gela Rossa sul neutro di Caltagirone è stata sonoramente battuta per 4-2 dalla Parmonval periodo decisamente nero per la compagine del tecnico Serafino quattro partite quattro sconfitte e la situazione in classifica si è fatta preoccupante i gelesi sono ultimi a quota zero è stato pubblicato sul sito internet dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-2017 modalità di accesso essere docente madrelingua o in subordine esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese i termini di presentazione e della domanda sono previsti entro le ore 12 di domani abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per aver guardato